Un incontro che si è svolto qui presso la struttura di Nava non a caso, anche per sottolineare il lavoro che viene svolto qui. Sì, noi cerchiamo ogni tanto di rinnovare la cooperativa e per rinnovare la cooperativa cerchiamo di capire meglio le cose e per caso mai erogare nuovi servizi. Oggi a Nava c'è questo consenso scientifico di altissimo livello che vede insieme la cooperativa Elfaggio e il suo rappresentare il privato sociale con consulenti scientifici di alto livello, strutture per anziani del territorio e le ASL 1 e 2 rappresentate ai massimi livelli tecnici. Quindi è un momento di riflessione che ci aiuta al senso che vogliamo dare anche all'intero complesso col di Nava. Quali possono essere le prospettive future? Le prospettive sono legate a diventare sempre più bravi con sempre minori risorse. Sappiamo che soprattutto noi italiani, quando siamo formiche, siamo estremamente bravi, quando siamo cicale rischiamo di perdere energie e qualità. Nel nostro caso le energie e le qualità sono fondamentali nella prospettiva di Nava, il Faggio, il Cres, operano per una riarticolazione del progetto. Quindi al cicalotto che è diventato nel frattempo da RSA ed RP psichiatrica, si vanno a innestare il ripartire del discorso delle nuove dipendenze alcol, cocaina e gioco d'azzardo sempre in maggior incremento e infine intendiamo, proprio per non ghettizzare la struttura in quelle che sono le cose fra virgolette brutte, riaprire con la primavera il discorso delle due canzioni ambientali, quindi rendere permeabile il mondo delle difficoltà con il mondo delle opportunità, i vecchi e i giovani. Lo facciamo ovviamente con delle consapevolezze scientifiche, sapendo che gli spazi andranno articolati e diversificati, però spero che oggi si sta parlando di patologie, un domani si possa parlare di integrazione e anche di giovani che nel venire a Nava possono conoscere l'ambiente, ma anche quelli che sono i temi critici della vita degli adulti. Quindi un vero punto di riferimento abbinato alla professionalità. Sì certo, noi siamo arrivati a Nava oltre 15 anni fa, quando c'era da risolvere il problema dei dimessi dall'ospedale psichiatrico. Mi piace ricordare che non avevamo trovato nessun comune che accogliesse dei concittadini imperiesi che nel corso del mezzo secolo precedente erano stati trasferiti in ospedali psichiatrici al di fuori della regione. Sanremo non li volle, Imperia non li volle, un sindaco illuminato che purtroppo non è più fra noi decise che questa sfida andava accolta, lo fece fra mille polemiche e tanti cittadini di Pornassio hanno potuto trovare occupazione o tanti cittadini sono venuti a vivere a Pornassio grazie a questa opportunità. Le cose sono cambiate, i numeri sono diversi, ci siamo trasferiti da Case Rosse in questo meraviglioso complesso di 40 ettari di Prato di Bosco. Intendiamo crescere ancora diversificando i servizi e avendo la certezza che quando le cose si rinnovano vanno bene e quando vanno bene fanno funzionare anche un pezzo di economia locale. Dunque qual è il significato, il senso di questo incontro che vi ha visto qui riuniti a Nava? Il senso di questo incontro è una proposta di avviare un progetto di ricerca coordinato da tre società scientifiche, la Società Italiana di Psichiatria, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia e l'Associazione Italiana di Psicogeriatria per fare un'analisi comparata sulla qualità dei trattamenti e sugli esiti clinici di pazienti particolarmente complessi, quindi anziani con problematiche psichiatriche che sono attualmente ospitate e trattate in strutture residenziali per anziani di vario tipo. Naturalmente qui si tratta di una popolazione molto particolare, di nuovi bisogni che negli ultimi anni sono andati crescendo in modo significativo e anche della complessità dei trattamenti perché bisogna da un lato tener conto della tipologia del paziente, della patologia di cui soffre, ma anche di tutto un complesso elemento di fattori di contesto, di fattori assistenziali dei quali spesso dipende l'esito del trattamento. Siamo qui per avviare questo programma di lavoro e di ricerca e naturalmente riteniamo che questo possa essere un elemento nuovo anche di stimolo e di informazione per i nuovi scenari della programmazione sanitaria. Dunque possiamo considerarlo un punto di partenza per la ricerca con uno sguardo quindi rivolto verso il futuro? Sì, direi di sì anche perché il problema degli anziani è proprio quello di essere spesso poco inclusi nelle ricerche scientifiche per cui spesso le pratiche cliniche non si basano su quella che oggi viene chiamata evidence-based clinic, evidence-based medicine, ma si basano proprio sull'esperienza. La necessità è quella di iniziare a fare della ricerca con anziani proprio per cercare di mettere in pratica delle pratiche cliniche che siano il più appropriato possibile. Dottoressa Maccagno, qual è la sua analisi al termine di questo incontro? Bene, io sono fiduciosa nel fatto che una ricerca è una necessità per impostare meglio il lavoro rispetto ai pazienti che curiamo e che sono già inseriti in residenza protetta e soprattutto per vederne i risultati e fare le opportune modifiche eventualmente. Poi credo che la ricerca riuscirà anche a definire meglio i requisiti dei moduli che attualmente utilizziamo e quindi può essere di grande aiuto insomma nella programmazione futura. Si è da poco concluso questo incontro in cui si è fatta questa analisi, questi ragionamenti, quali le impressioni? Le impressioni sono sicuramente positive, anche di soddisfazione, perché in questo modo possiamo veramente dare anche una connotazione scientifica a quello che viene fatto tutti i giorni anche dai gestori di tutte quante le strutture perché è fuori dubbio che pazienti con queste problematiche di tipo cognitivo e comportamentale aumentino sempre più. Quindi riuscire a dare anche un supporto alle attività quotidiane è una cosa estremamente importante e questo consente anche di iniziare ad introdurre anche alcuni concetti che sono le differenze di trattamento e con le differenze dei risultati che queste portano. Grazie. 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 Grazie.